Grazie a tutti. Il cielo che è la meta a cui dobbiamo tendere nel nostro pellegrinaggio terreno. Oggi è la seconda domenica del tempo ordinario e la liturgia ci ripropone, secondo il Vangelo di San Giovanni, la testimonianza di Giovanni Battista quando Gesù viene per farsi battezzare. È un Vangelo di Vangelo che abbiamo letto secondo diversi autori, secondo Matteo, secondo Luca e quindi secondo Giovanni, dove appunto come sappiamo il valore di San Giovanni è quello che incomincia non con il racconto della nascita di Gesù, ma come il verbo è stato eternamente generato dal Padre, quindi dall'eternità. In principio era il verbo, il verbo era presso Dio e il verbo era Dio. Ed è in questa prospettiva che San Giovanni racconta appunto la testimonianza di Giovanni Battista in occasione del battesimo. è una terribile testimonianza ricchissima di pienezza di Spirito Santo e che è alla base della nostra fede cattolica. Dunque vediamo prima di tutto cosa dice Giovanni Battista, indicando Gesù, dice ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Perché va a questa professione di fede di San Giovanni? Perché lui sta battezzando con l'acqua, ma il battesimo con l'acqua non è tale da rimettere i peccati per sua forza intrinseca, ma soltanto in vista di un altro battesimo, che è quello nello Spirito Santo e nel fuoco. Allora, perché è il battesimo di Gesù, nello Spirito Santo, che rimette i peccati? Perché Gesù è l'agnello di Dio, cioè colui che si offre il sacrificio sulla croce per espiare con la sua sofferenza e con il suo amore i peccati di tutti gli uomini di tutti i tempi. Quindi il peccato è una realtà così vasta che riguarda gli uomini di tutti i tempi, è così distruttiva, che soltanto la potenza dell'amore di Dio che si è manifestato in Cristo può distruggere il male, può vincere il male. E quindi San Giovanni, parlo di San Giovanni Battista, ha già compreso quelle che gli appositi non comprendevano, cioè gli appositi non comprendevano perché Gesù era morto in croce, era dovuto spiegare dopo la sua resurrezione, e cioè che era morto per i nostri peccati. Quindi, cari amici, da dove viene la remissione dei peccati? Viene dalla croce di Cristo. Questa è la prima professione di fede di San Giovanni Battista. Poi dice che lui non conosceva Gesù, ma colui che lo aveva mandato a battezzare gli ha detto colui sul quale vedrai scendere una colomba e posarsi su di lui, quello è colui che battezza nello Spirito Santo. Dunque Gesù è colui che battezza nello Spirito Santo. Difatti, dopo la sua morte in croce, Gesù appare nel Cenaco degli Apostoli e dice «Ricevete lo Spirito Santo, a chi rimetterete i peccati saranno rimessi, a chi non rimetterete non saranno rimessi». Quindi è dalla croce di Cristo che viene la potenza dello Spirito che attraverso i sacramenti ci purifica dal male e ci inserisce in Cristo. E finalmente alla fine San Giovanni dice «Io non lo conoscevo, ma colui che mi ha mandato mi ha detto colui sul quale si ferma lo Spirito è quello che battezzano lo Spirito Santo». E perché lui può battezzare lo Spirito Santo? Perché è il figlio di Dio. E perché è il figlio di Dio e lui battezzano lo Spirito Santo. Ora, cari amici, vedete in questo palo di Vangelo sono riacchiusi i due misteri principali della fede cristiana che sono il fondamento della fede. Prima di tutto è il mistero della Santissima Trinità. Dio è Santissima Trinità, cioè Dio, la natura divina, è una terribile relazione. Cioè il Padre che genera il figlio, il figlio che è generato dal Padre e lo Spirito Santo che è lo scambio di amore di ambe due. Questa relazione delle tre persone divine è l'essenza del Dio cristiano. Il Dio cristiano, cari amici, per dire parole molto semplici, che comprendiamo tutti, non è eterna solitudine, ma è eterna comunione di amore e che siamo manifestati noi in Gesù Cristo. Perché noi abbiamo accesso a Dio mediante Gesù Cristo e mediante Gesù Cristo diventiamo figli di Dio. Quindi questi due misteri della fede noi, guardate, in un modo molto semplice, li professiamo quando facciamo il segno della croce. C'è nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo e in quel momento professiamo il mistero della Santissima Trinità ma anche della redenzione mediante la croce. Ora, cari amici, questi misteri che sono fondamentali nella vita cristiana stanno un po' scomparendo perché stiamo perdendo la fede. E quindi quando pensiamo a Dio, diciamo, ebbè qualcuno ci deve pure essere. Così si dice al massimo dalla fede perché poi non si va molto più in là. Poi non parliamo poi della redenzione dei peccati, consacramento della confessione che è stato abbandonato e con i peccati che sono anche riconosciuti come tali. Cari amici, perché avviene questo dissolvimento della fede per cui, come dire, diciamo di essere cristiani ma poi siamo come gusci vuoti. E perché non preghiamo, cari amici? Non preghiamo, non entriamo in comunione con Dio, non entriamo in comunione con Cristo, non partecipiamo alla Santa Messa che è il missione della nostra redenzione, non partecipiamo ai sacramenti della Chiesa, in particolare alla confessione, abbandonando la vita cristiana nella sua totalità, che amici, cosa diventiamo? Delle foglie secche, diventiamo, come dire, dei tracci staccati dalla vita. Questo è un esempio di coscienza perché oggi, in questi giorni, leggevo diversi articoli che si parlano di chiese vuote, ma sì, ma sono vuote però, sono vuote, ma oggi sono tanti che sono consapevoli della loro fede, ma che consapevoli della loro fede? È semplicemente, come dire, una forma di gnosticismo, sì. Credo di approfondire la loro fede, diciamo così, andando a cercare su internet, poi in realtà, se non si partecipa alla vita della Chiesa, se non si legge la parola di Dio, se non si praticano i sacramenti, se non si partecipa alla Santa Messa, la fede la si perde, la si perde, cari amici. Avete mai pensato per quale motivo la Madonna ha incominciato il rinomamento della Chiesa a Međugorje con la Santa Messa quotidiana? Adesso è già molto se uno va alla messa al funerale di un amico. È così che si dissolve la fede, cari amici. E bisogna essere molto vigilati, stare attenti perché andiamo verso i futuri in cui solo chi ha la fede riesce ad affrontarlo. Solo chi ha la fede non si prende della paura. Solo chi ha la fede diventa vincitore. Quindi cerchiamo, come dire, di fare un esame di coscienza, di prendere decisioni serie per riportarci al centro della vita cristiana che è Cristo, che è Dio Santissima Trinità e il figlio di Dio fatto uomo, che è l'Eucaristia, che sono i sacramenti e che sono i comandamenti. E con questo, cari amici, abbiamo terminato la nostra prima meditazione. ringraziamo Dio per tutto il bene che ci vuole, per tutta la sollecitudine che ha per noi. Vorrebbe darci tante grazie, ma noi non ci crediamo, non lo chiediamo, chiediamo almeno la sua santa benedizione per l'intensione della Beata Vergine Maria. Vi benedica Dio Onnipotente. Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Sia lodato Gesù Cristo, sempre sia lodato. Regina della Pace, prega per noi. Buon proseguimento.